Tonio, terzo anno, terzo anniversario della morte di Don Nicola, il vostro fondatore al movimento Vivere In manca? Manca abbastanza perché per noi è stato, oltre che il fondatore di un movimento, un padre, una guida, sia a livello personale che a livello comunitario. Poi mancano le sue illuminazioni, la sua capacità di leggere la storia presente e proiettarla verso il futuro. Su questo momento così difficile avrebbe fatto una bella analisi, vero? Certamente. Lui è stato una persona che ha sempre cercato di leggere nella storia il progetto di Dio. Il progetto che Dio ha su ciascuno di noi e sull'umanità intera. Quindi sicuramente avrebbe fatto un'analisi illuminata da quella che è la storia divina. Il movimento Vivere In va avanti? Le iniziative nel suo ricordo si continuano a fare? Certamente. Il suo è stato un percorso. Ora il movimento sta rielaborando tutto quello che è stato, il suo pensiero. Lo sta attualizzando per proseguire in quest'opera che lui ha iniziato ma che certamente deve continuare e continuerà attraverso ciascuno di noi che ha aderito a questo movimento. Il ricordo più bello di Don Nicola? I ricordi sono tanti. Il ricordo più bello è quando lui ti parlava in un modo tutto suo del suo amore verso Gesù Cristo. Era capace di trasmettere quell'amore, quella fede grande che lui aveva nel figlio di Dio e che sentiva suo. Il ricordo più bello è quando lui aveva nel figlio di Dio e che sentiva un altro amore verso Gesù Cristo. Grazie a tutti